Il Palazzo del Piero vince in casa della Forti Saghezzo grazie a un bolide da fuori aria e porta a casa tre punti preziosissimi. Ha pagato la tattica di Parri che annullando Batrino e Pecorari ha portato a casa la vittoria con una prova determinante dei suoi, in particolare di Sorini e Albergotti. La Forti sarà partita bene al tredicesimo Rosadini, solo davanti a Scanzi, si fa deviare in angolo la palla. Al trentaseiesimo la rete della vittoria su azione di contropiede è Brignone che riceve al limite dell'aria il pallone e con una magica traiettoria Claudi è superato 0-1. Mirko, cosa è successo? Comunque è mancato anche un po' di carattere dei ragazzi a reti che forse pensavano di vincere sotto gamba. È successo quello, è successo che i ragazzi hanno fatto il massimo sforzo ma il carattere che abbiamo messo domenica scorsa contro il vice o maggio è venuto un po' meno. Queste partite qui, anche quando vai sotto e stai un tempo nella metà campo avversaria devi cercare comunque un gol di trovarlo, anche andando ad attaccare qualche palla sporca. Non l'abbiamo fatto, abbiamo perso, sono stati più bravi loro, si sono chiusi bene. È successo quello che purtroppo temevamo succedesse se non mettevamo lo stesso carattere. Però martedì si ricomincerà a lavorare e penseremo alla Caprisana. È una sconfitta sotto tutti i punti di vista perché chiaramente è vero che venivamo da questa magnifica vittoria vice o maggio, è vero anche che a Fortis mancava 7-8 giocatori ma è vero anche che non deve essere un alibi e che oggi la Fortis non ha giocato per niente al pallone. È mancato il carattere più che altro. Non ho visto la cattiveria, non ho visto la voglia di recuperare. Si pensava a parlare con l'arbitro invece che cercare di recuperare il risultato. Noi si pensa solo a reclamare, a prendere cartellini. Quindi sono molto amareggiato e deluso dal comportamento dei miei giocatori. Quindi onore al Palazzo del Piero che ha vinto, non c'è da dire niente. Però io devo rimproverare la mia squadra perché la mia squadra non è questa che abbiamo visto ora. La mia squadra, come ha giocato a vice o maggio, è una squadra che vince a mani basse. Quindi sono molto amareggiato dal comportamento e dall'atteggiamento dei giocatori. Sicuramente per il volume di gioco della Fortis forse il pane lo meritavano. Diciamo che noi siamo una squadra che dobbiamo vivere anche sugli episodi. Bisogna imparare a soffrire. Noi siamo una squadra che siamo una scommessa. Non c'è programmazione, non c'è stato niente. Noi ci siamo ritrovati in seconda così mentre eravamo convinti di fare la terza. Per cui siamo partiti con questa idea, il nostro obiettivo è salvarsi e in ogni campo si cerca di portare a casa quello che è possibile portare per i mezzi che abbiamo.